Ciao ragazzi, Rabla Forever In questo nuovo video vi porto un rating prediction, kart prediction di FIFA 15 Intanto scusatemi che sono raffreddato, troppo non ci posso fare niente Cominciamo, allora in questo episodio vi porto tre giocatori che sono Falcao, Cerci e Debye come avete letto nel titolo Allora, cominciamo intanto con l'italiano Cerci che sembra ormai imminente il suo trasferimento all'Atletico Madrid La sua carta iniziale era un 81 quest'anno, esterno destro con 84 velocità, 77 tiro, 81 passaggio, 84 dribbling, 52 difese e 58 colpi di resta 4 stelle pederebole e 4 abilità Allora, questo qui è un giocatore che ha fatto una stagione pazzesca, quindi io credo che diventi almeno un 83 Ruolo, seconda punta e non credo più a esterno destro Con 84 velocità, 80 tiro, 84 passaggio, 86 dribbling, 45 difese e 67 colpi di resta Quindi io ho aumentato di 2 la velocità, di 3 il tiro, 3 il passaggio, un più 2 nel dribbling, un meno 7 nella difesa Che si dice appunto che il FIFA 15 per i giocatori che giocano più in avanti sarà un valore molto basso Quindi meno 7 di difesa e poi FIS, fisico, 67 che fisico sarebbe una media flat forza, resistenza e salto Passiamo quindi al secondo giocatore che è Radamel Falcao Quest'anno l'attaccante del Monaco, o potremmo dire quasi ex Monaco, visto che ormai il suo passaggio al city sembra cosa fatta Si presentava con un 90 di overhaul, con 78 velocità, 86 tiro, 61 passaggio, 81 dribbling, 54 difesa e 89 di colpi di resta Con 4 stelle vederebole e 4 stelle possibilità anche lui E' stato quasi più di mezza stagione saltare pure i mondiali fermo per via di un suo infortunio ai legamenti Quindi quasi sicuramente il suo overhaul calerà di 1 Ma sarà comunque un giocatore molto forte e sicuramente costerà molto, visto che andrà in Premier League con tantissime durabilità Secondo me diventerà un 89 con 77 di velocità, 85 di tiro, 64 di passaggio, 80 dribbling, 47 di difesa e 79 di fisico Quindi un meno 1 di velocità, un meno 1 in tiro, un più 3 in passaggio, un meno 1 in dribbling, meno 7 per la difesa che appunto arriva a 47 E poi il fisico, questa media appunto a 79 Passiamo all'ultimo giocatore di quest'oggi, di questo episodio che è Memphis Debye Alla sinistra del PSV Endopen Questo giocatore qui sicuramente nei prossimi anni ne sentiremo parlare tantissimo di lui, visto che è un giocatore molto promettente Che il Milan era stato vicino ancora acquistato, però alla fine ha rinnovato col PSV appunto in Olanda Questo giocatore della rivise si è presentato con una carta argento valutata 73 Con 87 di velocità, 73 di tiro, 62 di passaggio, 80 dribbling, 42 di difesa e 59 di colpo di testa Con 4 stelle vedrebbe le 4 abilità come gli altri due in precedenza Questo giocatore, il suo passaggio in Oro è sicuro Appunto a dimostrare una stagione pazzesca In FIFA ha ricevuto una versione Team of the Season, argento, 74 E poi la versione I-MOMT e la versione IF Che è arrivata ad 80 Quindi secondo me avrà 93 di velocità, 77 di tiro, 70 di passaggio, 83 di dribbling, 28 di difesa e 73 di fisico Quindi un più 6 in velocità che ci sta, forse è un po' elevato in realtà, però ci sta perché è molto veloce L'ho visto giocare diverse volte ed è davvero molto veloce Poi un più 4 in tiro che è meritatissimo, anzi forse è pure poco Un più 8 nei passaggi Che è giusto come valore, arrivare al 70 è un valore più o meno giusto Visto che fa le buone passaggi Poi un più 3, scusate, nel dribbling Un meno 14 per la difesa Visto che lui, appunto, la difesa la conosce ben poco, diciamo Visto che un'ala è più improntata per l'attacco E infine il fisico, 73 Appunto questa media qui, fra resistenza, salto e forza fisica Il 73 appunto è la media giusta Quindi ragazzi, spero che questo video comunque vi sia piaciuto Credo di continuare appunto questa rating prediction Con 3 giocatori e non con un giocatore Come facevi in precedenza Come ho fatto con 5-6 giocatori O come avete notato appunto Sono riuscito ad avere, diciamo, quella che sarà la carta di FIFA 15 Era un pochettino lavorata Quindi spero vi sia piaciuta E vi è sorte a lasciare un mi piace Perché ci sono stati appunto davvero tanto Che dire ragazzi Per questo video è tutto Da Blaforever al prossimo video Bella Grazie 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 Grazie